Ciao a tutti! Allora, questo è il risultato della lotteria sul server JP. Quindi 3 SR ticket, credo. Adesso andiamo a vedere e andiamo a utilizzarli. Non so se io possa scegliere dove utilizzarli, forse qua, esatto, sì. Ok, andiamo subito ad utilizzarli. Ok? Oh, ricco! Che carino! Che carino! Andiamo col secondo. Ok? Ok? Vabbè, va bene. Vabbè, io è la mia worst delle acque, però insomma va benissimo. E l'ultimo, insomma, sono contenta. Le percentuali sono quelle di un SRT che è normale, immagino. Sì, 10, 20, 70. Dai, shiny, per favore! Non ha caricato, quindi qualcosa che ho già... Ok. Oh! Bene! Beh, qualcosa di shiny, in effetti. Benissimo, benissimo. Quindi, scusate se all'inizio non ho detto tipo benvenuti, bentornati, eccetera. Ma comunque... Niente, questo sarà comunque il video dove vi farò vedere anche i risultati della lotteria del server globale. E niente, quindi attaccherò... Attaccherò... Scusate. Attaccherò anche, appunto, i risultati del server inglese dove ci saranno ben 10 ticket. Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul tubo del degrado. Allora, oggi finalmente andremo a... Come dire... Svelare il contenuto dei 10 ticket della lotteria del server inglese. Perdonatemi, innanzitutto, se l'inizio, appunto, del video dove c'è la parte sul server JP è venuta un po' così, nel senso è iniziata un po' a caso. Però, boh, mi sono messa a registrare a caso, ecco. Comunque, andiamo a vedere perché adesso sono quasi le 4, quasi le 16, e c'è il gioco che dà ancora dei problemi di connessione perché il server è molto pieno. Ecco, vedete, già non riesco ad aprire il present box, quindi... Oh, io voglio i miei premi! Sì, che è il hub, per favore, che è il hub, che è il hub. Io non ce la posso fare, sono stata brava, ho avuto pazienza, ho saputo aspettare fino ad adesso. Non posso aspettare, dover aspettare... Oh, fino a stasera, benissimo. Andiamo, andiamo, andiamo. Benissimo, partiamo proprio alla grande. No, items. Ok, va benissimo, va benissimo. Ok, vanno bene anche i scouting ticket. Dai, un altro premio su cosa, su. Niente. Ok. What the fuck? Cosa? No, io non ci credo, raga. Cosa? No. Wow, ok, ok, raga, ok. Va benissimo, beh, era anche ora di un premio misero. Ecco, la connessione ha ricominciato. No, io non ci credo, 450 gemme. Cioè, raga. 400, no, non mi aspettavo, davvero, non mi aspettavo le 450 gemme. Diciamo che, in questo momento, sono un po' ingorda, nel senso che mi piacerebbe tantissimo trovare il ticket UR, perché se non ho capito male, è a scelta. E anche, oppure, quello con gli SSR, però, insomma, vabbè, dai! Niente. Vabbè, comunque, tutti questi scouting ticket sono ottimi per il solo box di anaglio. Ok. Ok, va benissimo. Ok, va bene. Insomma, ho trovato 450 gemme. Adesso, fatemi, eh, prendere, questo, che era dell'evento. Ok. Andiamo a collezionare tutto. A collezionare tutto, se ce la fa il gioco. Perché voglio andare a utilizzare gli SSR ticket. Eh, dovrebbero essere, cosa sono? Sei? Penso. Cos'erano? Due? Da tre? Boh. Comunque, gli SSR ticket li andremo a utilizzare immediatamente, eh, se sono separati da quelli normali. Eh, altrimenti li terrò lì a... A marcire, a... A marcire, a... Dai, su! Sto video verrà lungo solo perché ho la... Beh, insomma, 15 scouting ticket adoro, adoro. Andiamo a vedere un po'. Sempre che mi faccia fare, perché... Ok. Ah. Non so se farli tutti nelle Muse o farne qualcuno anche nelle Accords. Boh, vabbè, adesso andiamo con le Muse. Mi fa ridere perché sono 6 e 6. Ok, vabbè. Dai. Dammi queste 6 SR che così abbiamo finito. Su. Dai! Non voglio fare 700 tagli. Ok. Cioè, wow, partiamo proprio con una carta evento. Vabbè. Bollino. Nozomi. Vabbè, non so. Oh! No, raga! No, la posso utilizzare con copia! Cosa? What the fuck? No! Oh, no, capirò. Io ti ringrazio, ma basta! Oh, cosa? Oh, mio Dio! Leone mi ammazza, oh, mio Dio! L'Ale mi ammazza! L'Ale mi ammazza! Ale, lo sai? Io ti voglio tanto bene. Ti prego. Ok. Oh, che carina! È nuova? Ma Ellie Pull? No, Ellie Pull ce l'ho sul JP. Non stavo pensando. No, ce l'ho sul drop Ellie Pull. Vabbè, insomma. Ok, questa credo di poterla bollinare. L'ultimo? L'ultimo! Ma tipo un SSR. Anche perché è facile in quel caso che io già ce l'abbia e quindi io la possa tranquillamente bollinare. Ecco. È un ticket oro, è un ticket oro. Beh, che dire, ragazzi! Dai, sei stato bravo fino ad ora, ti prego! Non faccio qua. Ok. Ok. È nuova. Nico Valentine. Benissimo! Beh, ottimo! Ragazzi, ma le gemme adesso sono quasi 1.300... No, sono quasi 1.400. Non ho guardato prima, ero talmente... Talmente, come dire... Occupata a guardare i ticket, cos'è? Allora, questo video con i vari tagli verrà uno schifo, quindi già vi chiedo scusa. Però, insomma, volevo utilizzare anche Onoka qui, ma visto i vari problemi di connessione evito. E niente, io quindi, che dire... Le gemme sono quelle che sono! Vediamo quanti ticket ho... 30 scouting ticket! Sto male! Va benissimo! Pana ti aspettiamo! Con gioia! E aspettiamo anche eventualmente i box, se mai arriveranno, delle school unity, delle aqua, anche su Lang. E niente, spero non sia venuto un video troppo osceno. Grazie per la pazienza e niente, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!